Gian Nascoli, allora il Pescara Calciacinque volta pagina dopo quanto accaduto qualche settimana fa, si pensa alla prossima stagione, gli obiettivi sono sempre gli stessi, fare bene e dominare in campo italiano e anche in campo internazionale? Sì, è sempre difficile ripetersi però noi abbiamo dimostrato che non è impossibile perché noi in questi ultimi tre anni ci siamo migliorati sempre, per fortuna ci siamo riusciti, ci è mancato soltanto lo scudetto quest'anno ma per il resto abbiamo preso tutto quello che c'era da prendere, tutto quello che era importante prendere, siamo arrivati a quello scudetto e diciamo è successo quello che è successo, ormai dobbiamo veramente voltare pagina come dicevi tu, lo stiamo facendo, stiamo cercando di costruire una squadra ancora più forte di quella dell'anno scorso, lo faremo sicuramente, poi vedremo, vedremo chiaramente a fine stagione, vedremo se quello che stiamo cercando di costruire oggi ci porterà a ripeterci, è chiaro che l'obiettivo primario è vincere lo scudetto e cercare di arrivare in finale di Coppa dei Campioni, però chiaramente è difficilissimo, questo è sicuro, siamo la nona squadra come ranking europeo e già questo è un grandissimo successo perché la Luparenza che sono 11 anni che partecipa alla Coppa dei Campioni, qualche volta ci è riuscito, qualche volta no, ma è sotto di noi, perciò noi in un anno siamo riusciti a superare tutti e ad avere un ranking che ci fa stare, malgrado l'anno scorso non siamo stati in Coppa dei Campioni e ancora non ho posto, e questo è una delle cose più importanti, è un riconoscimento importante per tutti noi, un riconoscimento importante anche per la città di Pescara, perché essere la prima squadra italiana e stare subito dopo le squadre più forti che da tanti anni fanno Coppa dei Campioni e che sono in questo sport con due nazioni come Russia e Spagna che comunque investono tantissimo e dove il futsal è professionismo, c'è il Portogallo che è la stessa cosa, cioè noi con l'Italia siamo riusciti ad arrivare in finale dopo tanto tempo e a guadagnarci questa credibilità internazionale e ce la vogliamo tenere stretta.